Buonasera, ci sono domande? Prego, Rai Sport. Benissimo, sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi per il girone che hanno fatto da imbattuti, purtroppo volevamo arrivare primi, volevamo fare una vittoria davanti ai nostri tifosi ma davanti a noi c'era un avversario che si è dimostrato molto forte, chiaramente abbiamo fatto molto meglio rispetto a San Sebastian. Abbiamo concesso nulla e noi abbiamo avuto le due occasioni del primo tempo e le ultime due dove chiaramente volevamo vincere la gara però non ho niente da dire ai ragazzi perché abbiamo trovato una squadra molto aggressiva che gioca molto bene a calcio e dove non arriva con quel pressing riesce a interrompere il gioco facilmente, insomma hanno fatto delle ottime pressioni quindi onore anche a loro. è normale che chiudiamo tutti e due a 12 punti, volevamo arrivare primi, sappiamo che il sorteggio sarà meno agevole però ci penseremo chiaramente a febbraio. Tutto sport. Buonasera mister, ti volevo chiedere perché il cambio era Barella-Lautaro ma su una palla in cui Turam è stato anticipato sei corso a chiamare Arnautovic. Se c'è stato un problema per Turambo è stata una scelta... No, è stata una scelta tecnica. Avrei aspettato ancora dieci minuti però al primo tempo aveva avuto dei valori altissimi, aveva lavorato tantissimo Marcus. e quindi in quel momento ho pensato di cambiare anche lui però indipendentemente da un giocatore, da un cambio che ha giocato meno di più. Ho avuto risposte importanti, insomma avevamo qualche mancanza però i ragazzi hanno risposto bene. probabilmente con Danfris e Pavardi in più, Quadrado avrebbe giocato meno perché è un giocatore che in questo momento non può allenarsi regolarmente perché convive con un problema però mi ha dato grande disponibilità e lo ringrazio perché ha fatto 95 minuti contro una squadra difficilissima da affrontare, era la prima dopo tanto tempo e mi ha dato grandissima disponibilità. Tutto mercato. Grazie, buonasera Minister. Complimenti tra l'altro per essere comunque imbattuti nel girone, non accadeva dal 2005. In riferimento alla gara di oggi, non so se per scelta o per il merito della Real Sociedad, comunque abbiamo visto un Inter un po' diversa dal solito, un po' più bassa, un po' diversa dalla strategia solita. Quanto studierete queste due partite, questa di stasera e quella della Noeta, per capire perché la Real Sociedad vi ha messo così in difficoltà e per migliorare anche da questo punto di vista? Io penso che la Real Sociedad abbia messo in difficoltà anche Real Madrid e Barcellona, quindi bisogna sempre considerare che sia un avversario di fronte. È un ottimo avversario, allenato molto bene, con dei bellissimi principi di gioco, però la mia Inter non è stata inferiore, infatti sono usciti due pareggi. Probabilmente l'andata è stato un pareggio largo per noi perché avrebbe meritato di più la Real e stasera, secondo me, anzi, penso proprio di sì, per le occasioni che abbiamo avuto avremmo meritato più noi. Corri della Sera Simone, buonasera, ho sentito che in tv hai detto che vuoi vedere Sorrisi perché è il terzo passaggio di fila, ti chiedo come sarà la reazione adesso in campionato, se può essere ancora più di stimolo una serata così per riprendere in campionato? Una serata di stimolo, di contentezza, di felicità, di passaggio del turno, di chiudere il giro in battuti. Siamo tutti felici, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Complimenti alla squadra, complimenti al meraviglioso pubblico a cui volevamo regalare una vittoria che ci avrebbe permesso di arrivare primi. Ci abbiamo messo tutte le forze che avevamo, però abbiamo trovato un avversario di valore, che stasera ci ha impegnato meno rispetto a San Sebastian, però hanno palleggio. È una squadra con delle aggressioni, è una delle prime tre in Europa e quando non arrivano con il pressing ti fermano l'azione. Quindi è una squadra che non è semplicissimo giocare, l'abbiamo toccato con mano, ma l'ha toccato con mano tante squadre in questi due anni in Europa. Hanno fatto sei trasferti nel girono l'anno scorso tra Europa League e Champions, l'anno 25 è la prima che pareggiano qua a San Siro. Aria Ciao Pensi che si stia forzando troppo il concetto secondo il quale quest'Inter è la più forte e le deve vincere tutte? Ma sai, quello fa parte del gioco. È normale che abbiamo fatto dal 13 luglio al 13 dicembre molto bene, ma dobbiamo continuare. Per adesso non ho nulla da dire ai ragazzi perché tra Champions e campionato hanno fatto un grandissimo lavoro. Avevamo due obiettivi importantissimi da centrare, come la qualificazione mondiale per club e i ragazzi l'hanno centrato. Adesso il tempo chiaramente dirà, dobbiamo continuare, adesso non ci fermiamo, domenica andremo a Roma, mercoledì sarà la Coppa Italia, quindi giocheremo ancora tante partite ravvicinate. Grazie, grazie.